Nel momento in cui io sono arrivato diciamo mi è stato dato un compito ben preciso che era quello di sviluppare la multicanalità basandosi sul fatto che i negozi erano già in rete i prodotti erano già in rete quindi noi oggi abbiamo lanciato in realtà a ottobre dello scorso anno il nostro progetto di multicanalità che ha i servizi base di quelli che ormai si associano a multicanalità che sono click and call quindi ritira i negozi non così scontato poi tutto sommato però diciamo è un servizio già che ormai si ritroviamo su tanti brand però oggi questo noi l'abbiamo aperto prima sul brand roba di cappe adesso è attivo su superga i nostri clienti che entrano all'interno del sito superga vedono la disponibilità prodotto non soltanto della nostra logistica quindi il nostro magazzino ma anche di tutti i prodotti che sono all'interno di tutti i negozi superga praticamente ogni negozio sui commerce cioè di fatto viene fuori che ogni negozio sui commerce infatti all'interno del del sito superga roba di cappa il cliente può navigare in due modi o andare nella vetrina del suo negozio che magari conosce che magari già stata sponsorizzata in sede al negozio oppure navigare in generale sul sito e scopre la fine del processo che quel prodotto arriva al negozio prodotto che viene spedito dal negozio perché noi poi abbiamo delegato anche la fase di logistica quindi c'è l'ordine online il prodotto in negozio il negozio il kit che noi definiamo di multicanalità con la bussa pronta per il corriere in pacchetta chiama il corriere il corriere va a ritirarlo in negozio lo porta a casa del cliente fatto 100 gli ordini che noi riceviamo sul sito superga il sito superga ormai abbiamo il 70 per cento degli ordini che spediamo noi direttamente da basic italia e il 30 per cento che sono coperti dai negozi quindi significa che la disponibilità del negozio ci ha aiutato a coprire una domanda che noi non saremo stati in grado di esaurire ma in realtà in questo in questi ordini questo 100 per cento di ordine in realtà c'è un 30 per cento che è fatto di un ordine in cui una parte di prodotto la spedisco io basic italia una parte la spedisce il negozio questo significa che senza la multicanalità né io nel negozio avremmo venduto mobile perché se ne accennava all'inizio si noi sul mobile naturalmente la multicanalità e multi device quindi nel senso per noi non ci sono vincoli noi in realtà per noi il mobile è molto importante perché come sito superga ma come gli altri ormai 60 per cento del nostro traffico arriva da mobile e noi di recente a gennaio abbiamo lanciato le nuove versioni mobile noi non abbiamo di siti responsive abbiamo una versione dedicata per la navigazione da telefono e poi abbiamo una con quali benefici siamo più onerosa come scelta si è un po più onerosa in realtà anche grazie al fatto che il nostro ti ci permette di fare questo perché secondo noi la navigazione da mobile ha delle specificità sue e sono diverse scuole di pensiero non è però secondo noi l'idea di avere un sito responsive unico che si adatta sui diversi device secondo me poi sul mobile che è un'esperienza diversa anche di frizione può richiedere delle specificità che ad esempio poi nel sito responsive non riesce a gestire per cercare di aumentare il conversion rate quindi diminuire il tasso di abbandono in realtà stiamo iniziando utilizzare dei servizi che facilitano la fase di login e di check out abbiamo introdotto da poco la cassa veloce paypal in realtà saremo tra i primi a utilizzare il servizio di amazon pay che sta lanciando amazon in italia giochiamo assieme allora esatto oltre concorrenti sul prodotto siamo perché siamo anche noi anche voi partite è un servizio che quali benefici ma fondamentalmente che il cliente è un servizio per il cliente fondamentalmente che non ha l'ennesimo account da crearsi sul sito l'ennesimo password da utilizzare soprattutto i clienti accorci il fan e poi soprattutto magari sui clienti che sono un po titubanti siccome amazon sta facendo molta evangelizzazione sui clienti per l'acquisto online ti porti magari anche dei clienti che hanno magari delle barriere e se vedono i log iniziano a